Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su Dragon Ball Z Kakarot perché ragazzi perché oggi è uscito finalmente il DLC che tanto aspettavamo quindi prima di iniziare come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video in descrizione troverete il sito di Instagram gaming dove acquisto i giochi in modo tale da supportare il canale e troverete anche link ai miei vari social detto questo iniziamo subitissimo questo nuovo DLC allora dovremmo andare in contenuti aggiuntivi ed ecco qua il risveglio di un nuovo potere guidati da una voce sconosciuta Goku e Vegeta si ritrovano improvvisamente in un luogo misterioso qui i due Saiyan si addestrano come mai prima per accedere al nuovo livello di potenza quindi ovviamente per il Super Saiyan God non perdiamo altro tempo e iniziamo perfetto mo si mo si mo si mo si so con o f 2 kata Sì, hai sentito, non è? In realtà, hai avuto un prezetto molto bello. Ecco, vieni a presto. E? Cosa? 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 Sì, è vero che hai chiesto? Chi è chiesto di chi ha chiesto? Mi ha chiesto di chi ha chiesto di chi ha chiesto! Cosa? Chi è chiesto di chi ha chiesto? Eh 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 Sono io, Son Goku, Vegeta Chi è chiesto? Non, te le dimenticeremo! A me, Ui-Su, An Oh... Uii-Su, cani... Bebata... Mi significa che ho chiesto di chi ha chiesto? Tu... come ti chiamati a questa parte? Come ti chiamati? Come ti chiamati a te? Ahaha, è proprio quello. Come ti chiamati, come ti chiamati, come ti chiamati. Ma... come ti chiamati? Grazie a tutti 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 Esercizi Quanta energia Grazie a tutti Bello 20 Grazie a tutti Grazie a tutti Acqua divino Grazie a tutti 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 Poi andiamo in oggetti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti